Un sistema sementiero è quell'insieme di attività inerenti alla produzione, al miglioramento e all'utilizzo delle sementi. Lo stesso seme può avere diversi ruoli all'interno del sistema. Può essere semente certificata, usata per la coltivazione. Il seme però può essere usato anche direttamente come prodotto, ad esempio come cibo o mangime. Infine, il seme può essere una risorsa genetica, in quanto portatore di caratteri che conferiscono determinate qualità. I sistemi sementieri possono essere formali o informali, in base alla loro struttura. Un sistema formale è lineare. Il miglioramento produce nuove varietà e infine porta alla loro moltiplicazione e commercializzazione come sementi. Tutte queste attività vengono normalmente gestite e controllate da aziende sementiere. Gli agricoltori sono solo utenti finali che comprano le sementi. Questo sistema è tipico dell'agricoltura industrializzata. Invece, il sistema informale è un processo ciclico. Sono gli agricoltori stessi che selezionano e producono nei loro campi i propri semi. Le sementi circolano all'interno della comunità agricola attraverso lo scambio o il commercio. Questo è il sistema tipico dell'agricoltura su piccola scala, diffuso in particolare nel sud del mondo. A livello mondiale, i sistemi sementieri informali ancora oggi forniscono la gran parte dei semi usati dai piccoli agricoltori e sono importantissimi per la conservazione dell'agrobiodiversità on-pharma. Questa biodiversità vivente è fondamentale per la resilienza dei sistemi sementieri degli agricoltori e, anche come fonte di variabilità genetica, per il miglioramento genetico dei sistemi sementieri formali. Grazie.